E' giusto da parte mia fare chiarezza sulla cronaca giudiziaria di questi ultimi giorni e l'occasione è anche propizia per una breve riflessione personale, a commentare la visita della squadra mobile di Salerno presso la Casa Comunale Agropolese e il Presidente dell'Agropoli Cilento Servizi Domenico Gorga. Nei giorni scorsi in qualità di Presidente ho ricevuto dalla squadra mobile di Salerno, delegata dalla Procura di Vallo della Lucania, un ulteriore decreto di esibizione ed acquisizione di alcuni altri atti aziendali. Un'indagine giudiziaria di cui nulla si sa e dallo Stato si può sapere, è inutile nasconderlo. Crea sicuramente di per sé un minimo clima di insicurezza e rende più difficoltoso affrontare i problemi che ogni giorno i nostri dipendenti devono gestire e risolvere, ma come ho già ripetuto in passato, da parte mia vi è in massimo rispetto per le attività di controllo e di indagine in corso e la piena consapevolezza che, qualora dovessero esserci fatti o atti contestati, la magistratura farà emergere in fretta la verità. Ai tanti agropolesi per bene, onesti e laboriosi, che con cognizione di causa ed un pizzico di orgoglio, vorrei dire, qualsiasi cosa potrà emergere dalle indagini in relazione alla gestione di questi anni dell'Agropoli Cilento Servizi, l'azienda ad oggi non ha debiti, non è un carrozzone come tante altre società pubbliche, la governanza aziendale non si attribuisce alcun compenso e non richiede alcun rimborso spese per il mandato che esplica. Alle polemiche poi solite relative ai lavoratori interinali rispondo che anche qui non si è voluto approfondire o forse si è semplicemente voluto azionare la macchina del fango, messa in moto da alcuni per delegittimare avversari politici e amministratori con accuse strumentali e funzionali, volte esclusivamente a creare un clima da tutti contro tutti. E alla domanda del perché l'azienda non ha effettuato fino ad oggi dei concorsi pubblici di assunzione di personale vorrei rispondere sempre senza polemica che i nuovi servizi non vengono affidati dall'ente a tempo indeterminato e l'azienda ha dovuto prima dimostrare sul campo di essere in grado di espletarli con qualità e risultati. Oggi che tanti servizi sono ormai consolidati e l'amministrazione comunale continua a scegliere la strada dell'azienda per svolgerli, ritengo sia il momento di espletare delle procedure concorsuali per assumere direttamente alcuni lavoratori a tempo determinato. Probabilmente, anzi sicuramente, se negli ultimi anni avessimo perseguito una strada diversa si sarebbe parlato di un ente in crisi ed è proprio per questo che sono assolutamente sereno perché convinto, indipendentemente da tutto, di aver sempre cercato con l'intera governanza aziendale di perseguire l'interesse generale dell'azienda, dei lavoratori e quindi della città.